I carabinieri hanno esaminato più di 10.000 ore di registrazioni prodotte a 40 telecamere e giorno dopo giorno hanno chiuso il cerchio. Le immagini hanno mostrato prima l'assassino e la vittima a bordo dello stesso ciclomotore mentre si recavano verso la discarica di Contrada Scaccia, a Milazzo, nel Messinese e poi solo l'omicida che si allontanava da quella zona da dove si alzava una nuvola di fumo. Qualche giorno prima i due erano stati anche inquadrati vicino ad un ufficio postale in cui l'anziano aveva ritirato la pensione. Altri filmati avevano mostrato l'assassino durante i sopralluoghi in quello che poi sarebbe stato il luogo del delitto, il posto in cui il 56enne Ettore Rossitto, pregiudicato, avrebbe ucciso con 11 coltellate inferte con una lama di 20 centimetri il pensionato 73enne Giovanni Salmeri, bruciandone poi il cadavere. Era il 29 luglio. Per cento giorni è stato un giallo, la vittima, carbonizzata, non era stata identificata e non c'era alcuna denuncia di scomparsa, fino a quando le indagini hanno trovato indicazioni dai sistemi di videosorveglianza ed è emerso anche il movente. Rossitto ha ucciso Salmeri per rubargli la pensione di 650 euro. Adesso è accusato di omicidio premeditato e di distruzione di cadavere.